raffa stiamo partendo ho paura ho paura è nato tutto mi piace questo posticino dove c'è tanta roba qui oh già il kukri yeah il pepper knife si il pepper knife cazzo un coltello che la sopra al pepe quando tagli qualcuno poi lo bruci pepe brucia tantissimo sulle ferite non so se è nero il pepper spray c'ho spazio o si altrimenti ma quello lì è stato ucciso da se stesso si sarà buttato giù però non è possibile che io non trova un cazzo io mi ammazzo non trova mi sa che c'è qualcuno da mi sa che c'è qualcuno da mi sa che c'è qualcuno da infatti scappa scappa Quel cazzo questo lo vado a prendere C'è uno anche da me E mi ha attivato il gas e il faccia di culo Oh questo l'ho ucciso Ma da volta questo è sempre più lontano Hai bisogno di una mano te? No mi ha attivato il gas e poi è scappato Mi sono dietro ma non lo seguo Anche se è da solo non voglio che lui scappi dal suo compagno Io mi ritrovo Ho cominciato a finire di ruttare Sono nel tunnel delle fogne io Ok Ok Ti hai trovato le tue armine? Non posso bastare meglio di niente Ok 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 se ce la fai venire verso di me si sto vendendo una roba anche io posso chiamarlo e ora arrivo a cercasi porco di c'è uno che è rimasto da solo in due sono rimasti da solo sento il tuo airdrop oddio dove cazzo l'ho lanciata dall'altra ascia il fatto è che se io chiamo il mio airdrop è da stronzi perché aspetta la tua armor com'è? vedo il tipo che hai ucciso è un messa male la tua armor no cioè mi ha tirato un colpo di pugno ah perché il mio airdrop ha dentro l'armor quindi io ce l'ho piena perché non mi ha colpito nessuno cioè non è possibile quattro colpi di ascia da da coso qui da quella enorme mentre con quella piccolina due colpi che stronzata vai seguiamo questo airdrop andiamo dai più vicini 99 più il mio airdrop lo voglio apprendere e beh mi dà il martellone allora andiamo qua a prendere l'armatura me la tengo da parte per quando me la distruggono tanto la mette su istantanea la metto mentre salto corro e salto la metto e mi giro ah perché te ce l'hai eh sì mi ha mandato un messaggio con cara il bodyguard eh sì il bodyguard il personal trainer ok il bodyguard ciao Raff allora domani mattina io non sono non ci sono quello che potreste fare è il lavoro del cardio adesso eccomi quello che potreste fare è il lavoro del cardio adesso lo preparo più avanti e te lo mando ti spiego come 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 fare quanto ci mette di okane eccolo e mi ero rotto il cazzo di aspettarlo sbam questo può anche andarsene a fare in pull bene andiamo a sud tra sud e sud adesso c'ho iron for skin muscle man milk un'altra bodyguard nel caso gli servisse uno dei due e lo sledgehammer yes baby yes baby fa 28 se con un colpo caricato se lo colpisce da 9 a 27 però tu applichi sanguinamento sì io posso rompere i muscoli lei i muscoli di ossa che velocità è è slow è normal anzi normal sembra velocissimo credo siamo al centro perché sud ovest tanti siamo rimasti e siamo gli stessi di prima un botto di gente siamo ecco poi è dove ero spawnato io prima un bel posto vero eh sì aspetta che io non ho stamina mi sa che non sono state aperte le... invece sì ce ne sono altre c'è questa e forse... oddio questa come sarà? ho visto un tipo a sud ovest ho visto un tipo a sud ovest dietro a... all'arena eh lì dove c'è stata l'esplosione vedo qualcosa sulla cassa ah perché... eh usa il man tracker veloce ok l'ho visto sud est dietro il roccione l'ho visto spesso stia litigando con qualcuno no che male ok questi sono nemici mamma mia non abbiamo neanche usato pozioni perfetto cioè siringhe mi hanno tolto uno c'è una balestra qui ma un colpo lo uso e la lancio eh qui c'è il compound io eh ci fosse un altro zaino uh avevano un c4 lo tengo da parte che magari non c'era un altro zaino no no cazzo ma aspetta tol l'armatura ah no ce l'hai io perfetta eh compound cazzo sti merda di zaini sono veramente un po' più amico no devo lasciare il coso il man tracker devo vedere quanto siamo rimasti noi due gli altri due quindi dobbiamo andare ad ovest dobbiamo andare così prendere un po' più amico ok spacchi dei legni che ci curiamo cazzo ma è velocissimo non è slow speed guarda quant'attacco veloce mi fa a dire che è slow speed sta cosa attacco più veloce del tirapugno ok poi apro anche una cassa blu non hai spazio trovo qualcosa di fico senti se vuoi posso prendere io qualcosa in più se posso buttare via il remote explosive e io ce la mia vite è che il remote tipo lo metto qua aspetto che arrivi ne li faccio esplodere è un coltello di merda ho trovato al posto niente andiamo l'ho messo lì vabbè lo lancio dai vado a vedere là se c'è qualcosa di utile sto tutto aspetta a tenere che bagno di sangue cos'ha ah si tu che e dov'è il bentrack ero lo so l'ho lanciato a caso ah perfetto dai vabbè un coltello di livello 3 che probabilmente lancerò comunque gli ultimi due erano ad ovest aspetta sono tornati altri 5 punk ok no qua se vuoi ci sono un funk se ti serve craftare roba mi spacchi due legnetti che mi porto dietro delle bende per sicurezza anzi un legnetto qua ce n'è già uno perfetto ahia bastardo del culo dov'è? non lo so ovest da qualche parte e vabbè pure sparano ne ho sparati due non hai per sbaglio un bastoncino vero? no vabbè perendo pepper spray aspettiamoli bastone beh dai prima o poi finirà le frecce no? non è sopra in mezzo se vuoi gli corro addosso col pepper spray uh headshot però io ho fatto 6 questo le ha tutte ha una dinamite allontanati da lì merda grazie colpito? l'ho preso con il coltello da lancio ho 12 di vita io non ho più frecce dai ma vai così vai così vai così Raff vai così via baby senti solo della chitarra sentilo grazie 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 a tutti.